Il Parri nel suo scritto parla di una democrazia all'inizio, di un'Italia che comincia piano piano a diventare la democrazia che conosciamo oggi, però dice anche un'altra cosa che mi ha molto colpito, dice che l'Italia non era stata democratica nemmeno prima del fascismo e su questo gli devo dare al 100% ragione, perché quando io penso all'Italia liberale, quella dei Giolitti e non solo, penso che è proprio lì che è cominciata purtroppo la tragedia coloniale, l'Eritrea, poi la Somalia sono diventate colonie proprio in quel periodo e il fascismo poi ha copiato, ha copiato andando a invadere, distruggere, gassare popolazioni innocenti nella guerra di Etiopia. Quando penso a tutta questa storia, penso in un certo senso come l'Italia invece deve superarla, quella di oggi proprio parlo, deve superarla, non deve avere più quella mentalità coloniale dell'Italia liberale e dell'Italia fascista e deve creare un altro tipo di relazione con l'altro, un altro tipo di relazione che sia una relazione fatta di alleanze e non più di invasioni e non più di discriminazioni, perché poi il fascismo quello ci ha lasciato come eredità, un'eredità pesante di discriminazione e siccome nel suo scritto parla di ricostruzione, pensando al 25 aprile 2020 penso a che tipo di ricostruzione possiamo fare anche noi oggi, visto che viviamo un tempo abbastanza cupo con il coronavirus, con il post coronavirus, che tipo di Italia pensiamo? Allora è chiaro ci sono mille modi di ricostruire l'Italia dal lavoro, dai diritti del lavoro, dal diritto dei giovani, ma anche penso dal diritto dei migranti. Noi abbiamo due leggi orrende, anzi una legge e una non legge. La legge è la Bossi Fini che deve essere assolutamente cambiata, perché la Bossi Fini crea clandestinità, crea irregolarità, crea precarietà e noi abbiamo invece bisogno di migranti che diventino finalmente cittadini, che abbiano le possibilità che hanno tutti gli altri, perché poi il diritto mio e il diritto dell'altro sono la stessa cosa. Un paese che dà più diritti a tutti è un paese veramente democratico e la non legge è la legge che manca sulla cittadinanza dei figli di migranti. Noi abbiamo giovani, giovanissime, ma anche vecchi, perché i figli di migranti hanno anche la mia età e che in qualche modo sono stranieri nella propria nazione e questo non deve essere. Se vogliamo costruire una vera democrazia dobbiamo dare diritti a tutti, dobbiamo creare una democrazia dei diritti.